Tutti contro tutti Headshot bitch Qua è Omia Toll Alzate un po' il volume Che purtroppo questo commenta Che sento un po' pianto Headshot bitch Qua è Omia Toll E Guarda che tonto No non è morto Ah stronzo ti uccido io E Mi ha dato una falsa speranza quello Niente Siamo qui con il secondo puttanone Con il secondo episodio di No che secondo episodio Con un altro live commentary Tanto per divertirmi un po' Tanto questa partita sta andando bello E Siamo qui su Hygrice E' la terza partita che faccio per via di lag Di booster E robe varie Infatti sono un po' Diciamo Un po' annoiato Da sto fatto E oggi Volevo parlarvi Di Eccolo là Di un fatto Di un argomento Che mi stava molto a cuore Ovvero Fare fail col cecchino No non è fare fail col cecchino Ovvero L'argomento Del wrestling Allora Il wrestling È Diciamolo È stata un po' la passione di tutti Da Non lo so Non so anche classe fate Ma baffanculo eh Troione Però Diciamo che Madonna Da dietro e da davanti Qua Ficco in culo a tutti quanti E Il wrestling Io non riesco mai a iniziare un commento C'è sempre qualcosa che Lo impedisce Tipo sto noob Sto noob In merda Eh Testa di merda Vogliamo fare un commentary Eh Eh Devo venirti a pigliare a casa Allora Intanto qua Aumenta la camperaggine Della gente Sempre di più Questo è proprio un fail Un altro fail È lucido Ok Allora Il wrestling Secondo me È Diciamo È Fuffa Cazzo È quello che Ha dato il via A tutto Io Parlo Della community Di youtube Naturalmente Perché A modo mio E La wwe È qualcosa Che Pure l'issidabile Era una figata Comunque È qualcosa Che ti fa Che ti trattiene Che ti fa divertire Un po' come il montaggio online Io mi ricordo che c'era Il grande Eddie Guerrero Con la sua Frog splash Diciamo che Ha inventato il suo Trick shot Era la sua Frog splash Dal paletto Dal terzo paletto Viva la rassa Il grandissimo Eddie Che Poi quel Bastardone Vaffanculo Pensavo che era una Statua Poi quel Bastardone È morto E io lo dovevo andare a vedere Al Al Livorno C'era uno spettacolo E quel Bastardo è morto E Tre giorni dopo Sono andato a vederlo C'erano tutti che piangevano E mi ha fatto dispiacere Un po' Perché Era andato lì Solo per vedere lui E Lui era morto Vabbè La vita ragazzi E Quindi Io Sono andato in palla Per il wrestling Ma soprattutto C'era Una cosa Che era L'ECW Andatela a vedere Perché erano Veramente dei pazzi Erano Dei grandissimi Come direbbe Johnny E Facevano Al posto delle corde Normali Mettevano il filo spinato Perché Per divertirsi di più Perché erano Dei sadici Dei pazzi Non so come chiamarli Ma comunque Questo qua Mi fomentava un sacco E Appunto per questo Per Il fatto di Di Essere così famosi Di intrattenere la gente Di creare tipo storie Non so Non so cosa vi sto dicendo Però voi Continuate a seguirmi E Col fatto di Creare queste storyline Questi C'era Ray Mysterio Big Show Undertaker E Uno d'altro Dei miei preferiti Era Edge Ah E poi c'era Il team Il grandissimo team La DX Che erano Era Shawn Michaels E Triple H Che erano Veramente Dei grandi Perché Facevano tipo Un team Legato a Non lo so Al sesso Possiamo dire Che ne so Facevano la loro mossa Che faccio tuttora Con mio cugino È quella di Fare un suca Con le mani incrociate Per cui Veramente dei pazzi Poi c'erano Le Mi ricordi Paper View C'era Wrestlemania C'era Matt Hardy E Jeff Hardy C'era Chris Venna Che anche lui Ha ucciso la famiglia Come tutti Naturale Nel mondo del wrestling Uccidere la famiglia Ma questo cazzo Si teletrasporta Su di me Naturale Nel wrestling Uccidere un po' Tutta la famiglia Per diventare più popolari Per farsi crescere Di iscritti Come ha fatto Chris Venna Quindi ragazzi Olè Ragazzi Io vi dico Di imitare il grande Chris Uccidete la famiglia Se potete Così gli iscritti aumentano No naturalmente Sto scherzando Perché a me di caso Uno un pazzo lo fa E mi denunciano No non uccidete la famiglia Non fate nulla di questo Casomai Uccidete Un vostro amico Ma non la famiglia Perché È veramente importante E Io Non lo so Però Non so se nel titolo Metterò anche Megan Fox E resting Però nel caso Lo metta Per aumentare gli iscritti Devo parlare anche Di Megan Fox Allora Megan Fox Megan Fox Megan Fox È diventata famosa Io mi ricordo Che Aveva fatto Transformers Due No uno 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 Transformers Uno Ed era diventata famosa Perché c'era un video Su youtube Dove c'era lei Tipo messa a 90 A pi greco mezzi Quelli che fanno matematica Lo capiscono C'era lei Messa a pi greco mezzi Che Che dall'immagine del video È molto attraente Avete presente Tipo quei video Che vi fanno Vi fanno credere Nell'immagine Che sia un video sexy Invece c'è uno Che spunta e fa Volevate farvi le seghe È tipo quelli E c'era C'era un video Che ho scritto Megan Fox Is hot Quindi io l'ho cliccato E c'era questa ragazza Che era veramente carina Anzi non carina Era veramente Una figa mostruosa E quindi da lì Io credo che da lì Sia nato tutto Il mito Di Di sta tipa Niente L'ultima decisione Spero che non la fa il mio Arriel Perché sennò Mi incazzo come una bestia Perché io sono Un fan delle ultime uccisioni Intanto io mi suicido Lancio il coltellino a casa E Che cazzo ho fatto Ho distrutto un peblo Col coltellino No non ci credo Non ci credo Sto distrutto il peblo Dormito No Oddio Oddio E l'arriel mi salva Grazie Un applauso per Omniatol Ragazzi Lo fa da solo Questo è il gioco di squadra Altro che Chris Benoit È di Carrero Che uccide una famiglia Omniatol è il suo arriel Guardate che Chirca Raga Se vi è piaciuta Mettete pollice in ciù Come ho detto prima Che cazzo dico Fate quello che cazzo vi pare Bella raga Che cazzo vi è piaciuta